la scienza non sbaglia mai, i testi sacri della fisica sono intoccabili, forse non è così, in questo articolo analizziamo il modello di Kuhn, che ci spiega come la storia della scienza abbia avuto momenti di crisi, come quello che stiamo vivendo oggi, per leggere l'articolo cliccate il link nella descrizione, ciao